Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla pagina della cronaca giudiziaria riferendovi di due arresti eseguiti nelle ultime ore a Gela dalla polizia e dalla squadra mobile sotto chiave un ingente quantitativo di hashish e cocaina, sono state requisite anche due pistole, vediamo tutto in questo servizio Operazione antidroga nelle ultime ore a Gela da parte della polizia, del locale commissariato, degli agenti della squadra mobile di Caltanissetta con il supporto delle unità del reparto cinofili di Palermo due le persone arrestate, si tratta di Giuseppe Antonuccio di 37 anni e di Emanuele Lauretta di 33 erano a bordo di un'auto, una BMW, quando sono stati intercettati dalla polizia alla vista degli agenti e durante il controllo i due hanno manifestato segni di nervosismo a quel punto è scattata una perquisizione nelle loro abitazioni, un immobile e un garage e la perquisizione ha consentito di rinvenire nell'abitazione di Lauretta una pistola con matricola a brasa, clandestina, calibro 9, corto di marca Beretta, comprensiva di caricatore privo di cartucce e 16 cartucce dello stesso calibro nel garage ubicato a Butera, sempre nella disponibilità di Emanuele Lauretta è stata trovata una serra pienamente funzionante, completa di impianto di irrigazione, illuminazione e riscaldamento all'interno della serra sono stati rinvenuti 39 vasi di piante di sostanza superfacente del tipo marioana e apparecchiature idonee alla coltivazione indoor di droga nella abitazione di Giuseppe Antonuccio sono stati trovati 1,27 grammi di cocaina e la somma di 1000 euro in banconote di vario taglio in un'altra abitazione, utilizzata da entrambi, sono state trovate una pistola semiautomatica con matricola a brasa clandestina, prima di marca, riportante la digitura Attila FEG calibro 7,65 16 cartucce, 52 kg di sostanza stupefacente, verosimilmente hashish e 920 grammi di altra droga, probabilmente cocaina i due arrestati sono stati tradotti nel carcere di Contrada Balate a Gela a disposizione del pubblico ministero Lara Secchacini con il coordinamento del procuratore capo di Gela, Fernando Asalo Tutto nasce dall'implementazione dei servizi che a seguito del comitato dell'ordine della sicurezza pubblica si è tenuto a Gela nello scorso mese di ottobre sono state appunto intensificate grazie all'occhio operativo di persone che conoscono il territorio andando a individuare due soggetti gravati da precedenti di mafia assieme alla stessa macchina per giunta uno dei due in atto sorvegliato speciale perciò ha la prescrizione del tribunale che non può frequentare soggetti con precedenti di polizia una volta che sono state fermate e controllate hanno dato chiari segni di nervosismo di molta preoccupazione perciò è nata la tutana di routine che facciamo in questi casi controllo a casa delle varie perquisizioni con l'induito corroborato dalle chiare direttive della procura di Gela di andare a individuare sia questa abitazione che avevano nella disponibilità in questo garage ex lavaggio dove lauretta lavorava a Butera il secondo trasformato in una serra sperimentale di primissimo piano con un'attrezzatura e 40 vasi di piante di marijuana ma nelle abitazioni in questa casa in comune abbiamo trovato quello che avete visto evidenziato ben 52 kg di hashish che per il compensatore di Gela rappresenta il quantitativo più alto mai trovato di questo tipo di stupefacente è quasi un chilo di cocaina che capite bene e due pistole e tengo a sottolinearlo perché appunto con persone della mobile che ci ha collaborato in tutto in questa attività e il valore aggiunto sono queste armi clandestine con la matricola base che molto probabilmente potevano essere usate anzi sicuramente per commettere azioni criminose dal territorio di Gela e quasi un milione di euro di provento che abbiamo tolto dalla piazza di spaccio per il sequestro di un incende quantitativo di roba che era già pronta per essere immessa. E adesso occupiamoci del grave episodio che si è registrato durante la celebrazione di una causa di separazione al tribunale di Gela. Un avvocato è stato preso a pugni da un uomo che lo aveva incaricato di curare l'iter di scioglimento del matrimonio. Dura e ferma presa di posizione per quanto accaduto da parte dell'ordine degli avvocati di Gela. Vediamo. Preso a pugni mentre in un'aula del tribunale di Gela si stava celebrando una causa di separazione vittima dell'accaduto e un avvocato. Il legale è stato aggredito dall'ex compagno della sua assistita. Immediato l'intervento di alcuni presenti. Ferma e dura presa di posizione per quanto accaduto da parte dell'ordine degli avvocati di Gela. Ci ha lasciato sconvolti e anche turbati per un certo senso di questo avvenimento così ingrescioso che ha coinvolto un nostro collega proprio all'interno del tribunale e nel momento in cui lo stesso stava svolgendo quello che è la sua professione. Sicuramente siamo stati colpiti da questo avvenimento tant'è che abbiamo subito sentito l'esigenza di notiziare di ciò anche il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, dottor Razzaro, i quali hanno manifestato subito la solidarietà alla classe Forenza e al collega per questo fatto brutto di chiamiamolo. Oggi voi avrete un incontro. Avremo un incontro straordinario di consiglio proprio per esaminare nei dettagli questo avvenimento e prendere quelle iniziative assieme anche alla magistratura perché fatti del genere non accadono più e quindi anche che la nostra professione venga rispettata e che quella professione venga esaltata ancora di più. Noi siamo una nobile professione e tale vogliamo rimanere. L'avvocato vittima dell'aggressione ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari. Io ho chiamato proprio ieri sera anche il collega subito dopo che lui era stato all'ospedale per farsi medicare e refertare. Lo stesso mi ha assicurato che le condizioni tutto sommato erano buono e era ancora sconvolto per quando gli è accaduto proprio nel momento in cui stava svolgendo la sua professione di avvocato. L'ospedio o la speranza che determinati episodi non accadono in più? Noi vogliamo questo sicuramente che questi episodi non avvengano più anche perché proprio in questi ultimi tempi oltre al fatto che ha colpito il nostro collega ci sono stati altri avvenimenti che sicuramente voi conoscete e che veramente anche quelli ci fanno molto riflettere. Speriamo che veramente sia la fine. Indagini sono state avviate da Polizia Carabinieri a Gela a seguito di quattro incendi che si sono verificati la scorsa notte in città danneggiate altrettante vetture. Gli episodi si sono verificati in via Rossumburgo, in via Mona, in piazza Aldomoro e in via Polluce. In occasione della commemorazione del commerciante gelese Gatano Giordano ucciso dalla mafia il 10 novembre del 1992 per essersi ribellato alla racket delle estorsioni, domani nei locali dell'associazione antiracket di Gela che porta il suo nome, si darà un momento commemorativo promosso dal presidente Renzo Caponetti. Saranno presenti Tano Grasso e le più alte autorità civili e militari. Il tratto del corso Vittorio Emanuele, compreso tra piazza Sant'Agostino e via Marconi, è interessato da una ordinanza della Polizia Municipale in concomitanza con la cerimonia in memoria di Gatano Giordano. Domani, a partire dalle 15.30 e fino alla fine della commemorazione, viggerà il divieto di sosta con rimozione forzata, mentre al passaggio del corteo varrà il divieto di circolazione. Filippo Franzone, il dibattito sull'emigrazione di Gela a Catania continua quotidianamente, lei adesso ha scritto anche al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi, chiedendo un intervento immediato, anche perché le sottolineano attraverso le missive che il 4 dicembre si vota il referendum, un referendum confermativo. Ma Gela è stato fatto un referendum confermativo per l'adesione di Gela a Catania, ma da allora ad oggi è accaduto poco. In tutto in Italia sono stati svolti 9 referendum confermativi, di questi 9 referendum confermativi i 4 attendono ancora l'applicazione e sono quelli di Gela, Piazza Almerina, Niscemi e Lico di Obea. Abbiamo scritto al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio per chiedere con quale spirito i nostri concittadini si regaranno a votare il 4 dicembre un referendum confermativo. Questa è la domanda che abbiamo posto a queste istituzioni. È ovvio che i referendum vanno sempre votati, non entriamo nella scelta del sì o del no perché non è compito nostro. Però bisogna anche capire perché quei quattro referendum svolti nel 2014 sono ancora fermi. Noi il perché lo sappiamo ovviamente è perché la regione siciliana non vuole modifiche territoriali dei collegi elettorali per le prossime elezioni regionali. Bene, può scontrarsi il volere di 90 parlamentari contro il volere delle popolazioni siciliane? Noi abbiamo sempre detto di no e ci battiamo per questo fino al raggiungimento dell'obiettivo che ormai è molto vicino. Però come dicevamo dal referendum, dal consenso del Consiglio Unale, dal consenso della Giunta è accaduto realmente poco perché Gela attualmente, assieme alle altre città, rimane nei rispettivi liberi consorsi? Rimane nei rispettivi liberi consorsi però abbiamo dimostrato alla regione che non possono legiferare, non possono andare avanti se Gela e Piazza Milena e Niscemi non vengono spostati nei consorsi che hanno scelto di appartenere. Abbiamo visto di recente, poche settimane fa, la regione ha dovuto spostare le elezioni fino alla data del 24 febbraio 2016. Se non faranno le variazioni territoriali, le elezioni non si potranno svolgere nemmeno per quella data. Quindi loro sanno che non possono fare nulla se non si completa l'iter della legge 15. Bene, noi siamo sempre pronti a bloccare qualsiasi iniziativa legislativa della regione fin quando non compieranno le variazioni territoriali. In maniera molto più chiara e più diretta, quali vantaggi potrebbe avere Gela aderendo proprio alla città metropolitana di Catania, staccandosi definitivamente dall'ex provincia di Caltanissette? Ne cito uno per tutti che è il più noto ovviamente, è quello di dare la possibilità alla città metropolitana di Catania di affacciarsi su due mari. E noi siamo in una posizione ancora migliore rispetto a Catania perché ci affacciamo sul canale di Sicilia, che è la zona dove passano le grandi nave madre e porta container. I catanesi sono molto interessati a questo perché loro hanno l'interporto a Catania e sono pronti a smerciare merci, però hanno un porto sulla rotta e quello di Gela sarebbe il porto sulla rotta di queste grandi di Navi Madri. E sul referendum del prossimo 4 dicembre l'Associazione Nazionale Magistrati ha promosso un incontro per discutere sulle ragioni del sì e sulle ragioni del no. Proseguono gli incontri in città in vista del referendum del 4 dicembre quando gli italiani dovranno pronunciarsi con un sì o con un no al quesito sulle disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la suppressione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e la revisione quinta della parte seconda della Costituzione. Anche l'Associazione Nazionale Magistrati di Caltanissetta nell'ambito degli incontri della magistratura con la società civile ha voluto promuovere un convegno dal tema referendum e le ragioni del sì e del no. Tra i presenti è anche una rappresentanza delle classi quinte dell'Istituto Superiore Rappisardi da Vinci. Non è un dibattito, è solo un incontro di formazione per far conoscere la cittadinanza e a noi stessi e a tutti quanti questo referendum è per capirne le ragioni a prescindere dal sì o dal no, ma solo per informare non come dibattito. Abbiamo intenzione di incontrare oggi i due docenti universitari che provengono da Catania e che sono appunto docenti di diritto costituzionale e di diritto penale solo al di fuori di ogni dibattito, al di fuori di ogni polemica, ma solo per spirito di servizio come spesso la giunta dell'ANM fa per questa cittadinanza e per la collettività. A spiegare le ragioni del sì, Giovanni Grasso, ordinario di diritto penale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania. Bisogna votare sì perché il becamaralismo perfetto e paritario come è stato delineato dalla nostra Costituzione è assolutamente superato, non solo, ma esso è frutto, come ha detto il Presidente Mattarella in un articolo che aveva scritto più di 30 anni fa, è frutto di un risultato addirittura direi accidentale, nessuno voleva il becamaralismo paritario. E proprio per questo è superato e la nuova riforma costituzionale lo supera, prevedendo che il Senato abbia delle competenze particolari, ma non sia più titolare della funzione di indirizzo politico, non dia la fiducia al Governo e ha un limitato apporto alla funzione legislativa. A sostenere le ragioni del no, invece, Agatino Cariola, ordinario di diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania. Questa riforma è una riforma manifesto, è caricata di tanto significato politico, ma gli interventi sull'assetto organizzativo sono alla fine minimi. Si riduce il numero dei senatori, si crea un Senato piuttosto confuso, pensi un po', ci sono 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica, ma solo per 7 anni. 21 sindaci, 74 consigliere regionali che fanno contemporaneamente i senatori. E così com'è pasticciata la composizione del Senato, è pasticciata l'attività del Senato, le competenze del Senato. Come ogni anno, i volontari della Soluzione Diabetici Eschilo, presieduta da Giuseppe Curatolo, celebrano sul nostro territorio la giornata mondiale del diabete. Lo scopo dell'iniziativa è quello di avvicinare più persone possibili allo screening, che quest'anno si svolgerà il 13 novembre, nello spazio antistante la parrocchia San Giovanni Evangelista, dalle 9 alle 12 e 30 e dalle 17 alle 19 e 30. Medici e volontari si succederanno nel corso della giornata nello stand adeguatamente attrezzato e saranno a disposizione di quanti vorranno conoscere meglio la patologia e i rischi connessi per prevenire l'insorgenza o le complicanze qualora non diabetici. Domani alle 10 gli alunni dell'Istituto Scolastico Giovanni Verga di Gela assisteranno ad una dimostrazione operativa dell'unità cinofila della Polizia di Stato. Docenti ed alunni ascolteranno le spiegazioni dei poliziotti sui loro compiti e nello specifico quelli delle unità cinofile. È prevista l'esibizione di due esemplari di pastore tedesco. L'iniziativa rientra nelle attività programmate nell'ambito del progetto percorsi di legalità, progetto curriculare e trasversale coordinato da Giuseppe Maria Spera con lo scopo di sensibilizzare ed avvicinare gli adolescenti alle istituzioni e diffondere la cultura della legalità e del rispetto delle leggi. Fai la cosa giusta. Differenzi ai rifiuti. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, mercoledì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione gli imballaggi in plastica e metallo, multimateriale, nell'apposito sacco trasparente. Cosa conferire? Plastica, piatti e bicchieri monouso in plastica, bottiglie di acqua e bibite, flaconi, taniche, dispenser e tubetti vuoti per detergenti, detersivi, shampoo e dentifricio. Prodotti per l'igiene della persona e della casa. Baschette, contenitori, buste e sacchetti per alimenti. Imballaggi in polistirolo, reggette e stringipacchi, blister, reti e cassette per frutta e verdura. Contenitori con sigle PET, PVC, PPP, PS. Cosa conferire metali? Lattine per bevande, scatole e lattine in banda stagnata, contenitori in metallo, pelati, tonno, mais, cibo per animali, contenitori di prodotti per l'igiene personale, tappi, coperchi e stampi per dolci in metallo, carta in alluminio di uso domestico pulita, contenitori in alluminio per alimenti puliti, bombolette spray vuote non pericolose, coperchi in alluminio degli yogurt, lattine con il simbolo AL. Come conferire il multimateriale? Gli imballaggi in plastica, assieme agli imballaggi in metallo, alluminio, banda stagnata e metalli vanno conferiti puliti utilizzando l'apposito sacco trasparente. Un ambiente pulito e sano, basta un piccolo gesto. Eccoci in seconda parte del telegiornale che apriamo parlandovi della sit-in permanente dinanzi al comune di Gela. Da parte degli animalisti si protesta contro l'assoluta inefficienza della politica che ostacola l'attività indispensabile del volontariato. Vediamo. Si viene permanente dinanzi al municipio di Gela per rivendicare i diritti degli animali e dei loro proprietari e protestare contro l'assoluta inefficienza della politica che ostacola l'attività indispensabile del volontariato. Uno stand informativo è stato restito dai volontari della Lida. Lo scopo è quello di far capire cosa si deve fare per legge per poter contrastare il randaggismo diffuso e chi omette di applicarla. Fra i problemi da affrontare ci sono i continui abbandoni, maltrattamenti, mancanza di sterilizzazioni, nessuna area dedicata, completa assenza di strategie, danno erariale per una spesa annuale di oltre 700 mila euro che aumenta sempre di più. Siamo qui stamattina davanti il comune affinché l'amministrazione ci osservi e ascolti le nostre proteste, le proteste dei cittadini gelesi e degli animalisti gelesi. Noi vogliamo che il comune costruisca il canile comunale come previsto dalle leggi nazionali e regionali e che inizi immediatamente le sterilizzazioni, che questo ping pong tra ASP e comune dia luogo finalmente all'apertura del centro di sterilizzazione perché i cittadini sanno benissimo che il randaggismo oramai ha raggiunto dei picchi troppo alti e non riusciamo più a sostenere questo peso. Noi associazioni da sole non siamo aiutati dal comune, non siamo aiutati dalle istituzioni in nessun modo. Anche per il centro di petterapia stiamo chiedendo che fine abbia fatto perché il comune ha speso 900 mila euro per ristrutturare questi immobili siti nell'ex mattatorio comunale e da un anno e mezzo sappiamo che i lavori sono stati conclusi ma il centro è chiuso. Noi abbiamo formato degli operatori, potremmo dare dei posti di lavoro, anche il canile comunale darebbe posti di lavoro per cui invece di regalare questi 750 mila euro l'anno ai canili privati di Caltanissetta sarebbe opportuno costruire la Gela, dare un servizio ai gelesi, arginare il fenomeno del randaggismo finalmente in modo adeguato e quindi diventare una città vivibile e civile. Consegna degli attestati agli studenti che hanno svolto l'alternanza scuola-lavoro nell'anno scolastico 2015-2016 si darà domani alle 10 nei locali dell'istituto tecnico-commerciale Luigi Sturzo di Gela. Saranno presenti il presidente dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, il presidente della Confcommercio e il direttore del Museo di Gela. E ora spazio alla mozione presentata in consiglio comunale dal gruppo Il Megafono in merito allo stato di abbandono in cui versano tre strutture sportive presenti a Gela. Sara Bonura, Gela possiede tre gioielli, il cartodomo di Contratazai, il palalivatino e anche il parco di Montelungo. In più di un'occasione anche la sezione locale di Fratelli d'Italia ha sottolineato che sono in uno stato di abbandono. Ora voi come megafono presentate una mozione al fine di intervenire perché a questi gioielli bisogna valorizzarli e non lasciarli all'abbandono. Sì, allora io con la dottoressa Pingo abbiamo presentato questa mozione in consiglio comunale affinché appunto l'amministrazione provveda facendo relativi solleciti alla provincia di innanzitutto pulire questi siti perché sono in totale abbandono e oltre questo c'è la presenza anche di amianto. Pertanto ci stiamo mobilitando affinché venga presa in considerazione. Dunque in questo caso dovrebbe intervenire il libero consorzio di Caltanissetta? Sì, dovrebbe intervenire il libero consorzio di Caltanissetta perché effettivamente è di loro proprietà. E come si fa a lasciare all'abbandono tre gioielli come li abbiamo definiti? Ce lo chiediamo anche noi perché effettivamente queste strutture sono state riconosciute anche a livello nazionale e sono state fatte delle gare anche di gogart che hanno portato tanta gente a Gela e tanti turisti se vogliamo chiamarli così e quindi dovrebbero essere attenzionati in modo particolare se veramente vogliamo che Gela abbia una rinascita. Una proposta potrebbe essere quella di farla gestire da alcune situazioni presenti sul territorio? Certo, qualsiasi iniziativa utile per riprendere queste strutture e valorizzarle è ben accetta. È previsto per domenica prossima alle 20.30 al Teatro Eschi Rodigela lo spettacolo musicale del Lion King promosso dal cesma della parrocchia Regina Pacis. Una serata interamente dedicata alla solidarietà. Il ricavato infatti sarà destinato per aiutare e sostenere le popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto. L'obiettivo è quello di costruire una scuola. Il biglietto costa 10 euro. Per informazioni rivolgersi a Salvatore Sammito al 340-500-1629. Lo ripetiamo 340-500-1629. È stato rinviato a lunedì 14 novembre alle 21.15 lo spettacolo teatrale Io odio Amoleto che avrebbe dovuto tenersi ieri in occasione dell'apertura della nuova stagione all'eschilo. Per motivi di salute dell'attore Gabriel Garco la rappresentazione è stata, come dicevamo, posticipata. E appuntamento col cinema all'antitolo di Gela e in protezione il film Lettere da Berlino. Sono due gli orari di programmazione 19.30 e 21.30. Abbiamo concluso anche per oggi. Grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per aver guardato il video.